Piove ma si gioca, ci sono condizioni fantastiche per assistere a una partita divertente e spettacolare. Un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava. Ecco la formazione della squadra di casa. Il tecnico ha preferito non sbilanciarsi e la scelta è stata il 4-5-1. Che dire Piero, aspettiamo di vedere come si evolverà il match prima di dare un giudizio. Ecco gli undici di partenza del Cagliari. Per il match di oggi hanno scelto di schierarsi con un 4-4-2 a trazione anteriore. Ma è già pare proprio che il tecnico l'abbia preparata così per aggredire sin dall'inizio la formazione avversaria evidentemente. Ecco Biabiani. Parata eccezionale questa che salva la porta. Piovono applausi dalle tribune, giusto, ha compiuto un vero e proprio miracolo. Palla verso il centro dell'area. Miracolo del portiere su questa deviazione di testa. L'attaccante ha colpito a botta sicura. Prodigioso il riflesso dell'estremo difensore. Mamma mia. Rajan Ainggolan. Uronen. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Bainz. Si ripartirà con un fallo laterale. Klavan. Amarty. Pallone è recuperato senza problemi qui. Spazio per il traversone. Pavoletti. Bersa. Amarty. Palla troppo lunga che viene raccolta senza problemi dal portiere. Bainz. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Sale Montolivo. Acqua. Palla che finisce in corner. Occhio al tiro della bandierina. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Donati. Via Baini. Occhio al traversone. Può controllare palla senza fretta. Palla sul fondo. Sarà calcio d'angolo. Palla messa in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Ancora un calcio d'angolo. Occhio al corner. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Rog. Pavoletti. Uronen. Recupera palla intercettando bene il pallone. Può avanzare. Pallone in profondità. Ferma tutto con un gran tackle. Acqua. ha spazio per avanzare. Acqua. Apri il gioco. deviazione di testa innocua che non crea problemi al portiere. Intervento comodo il suo. Tempo da lupi. Pioggia incessante che può complicare la vita delle due squadre in campo. L'equilibrio delle formazioni è compromesso. Assisteremo più a lanci lunghi che a giocate palla a terra viste le condizioni del campo. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Pavoletti. Rog. Occhio. Nainggolan. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Occhio cerca l'area di rigore. Montolivo. Ecco Bia Biani. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. La mette in mezzo. Attenta qui la difesa. Palla allontanata. Palla vagante adesso. Partono in contropiede. Possesso gestito male. Buono il recupero. Berza. Occhio a questo lancio. E il portiere recupera il pallone. Raziana in golanda. L'arbitro dice che è fuori. Piove ancora. Comincia la seconda metà del match. A spazio davanti a sé. Abraham. Si libera dell'avversario. Non riesce a tenerla in campo a merito anche della marcatura. Acqua. Viene pressato. Baines. Gran palla in mezzo. Ecco Bia Biani. esce e recupera il pallone. Clavan. Un primo tempo il suo senza particolari acuti. Nella media. La sei pagella. Sei d'accordo Stefano? Prestazione mediocre. Fin qui la sua. Deve fare qualcosa di più. Se vuole impensierire la retroquadria e Vassaria. E dare una mano alla sua squadra. Il tocco dentro. Buono l'anticipo del difensore. Punta l'area. Potenzione buona per il cross. Bersa. Bersa. Il prossimo incontro di campionato li vedrà impegnati fuori casa. Gara come sempre visibile qui su EA Sports. C'è spazio per andare. Spezzano senza difficoltà al Tikitaka avversario. Occhio al traversone. Bella parata. In tutto. Clamoroso errore. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Cross verso il centro dell'area. Occhio a Nainggolan. Roggio. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Può metterla in mezzo. Deviazione in out. Si ripartirà con la rimessa laterale. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. La mette in mezzo. Che riflesso del portiere sulla deviazione aerea. E' importante la notizia di mercato è appena arrivata. Sergio Busquets ha completato il passaggio al Bayern Monaco dal Barcellona. Volevano un giocatore in quel ruolo e sono riusciti a bruciare la concorrenza. Cercano il buco della difesa avversaria. Abraham. Salta il difensore. Pavoletti. Potevano sbloccare la gara. Eh già. Avrebbero potuto aprire le marcature se avessero sfruttato al meglio questa occasione. Nulla è perduto comunque. Tutti e due gli allenatori vogliono cambiare qualcosa. Granqvist. Ancora un quarto d'ora per l'esperanza delle due squadre. Gervigno. Attento qui il difensore che allontana. Uronen. Robbio. Pavoletti. Berza. Pallone profondo, pericoloso. Può andare al cross. E' un brutto fallo. Vediamo se l'arbitro prende i provvedimenti. Nell'arbitro estrae il cartellino. Giallo. Giallo. C'era da aspettarselo. Posizione defilata. Probabile che decida di crossarla nel mezzo. Gervigno. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ottimo intervento senza fronzoli. Cinque al termine. Parità assoluta. Via Biani. Donati. Ecco via Biani. La traiettoria verso il centro. Peccato. Era un buon cross ma non c'era nessuno in area. Base finale della gara. Occhio a questo calcioracco. Pallone in mezzo. Ci mette i pugni e allontana. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Recupera palla. Intercettando bene il pallone. L'intervento del portiere che allontana. Ci saranno due minuti di recupero. Una nuova azione a caccia del gol vittoria. Può crossare. Grande intervento. Pallone pericoloso. Attenzione. Ma arriva. Arriva la segnalazione. Sarà fuori gioco. Offside. Si è alzata la bandierina. Termina qui il match sul risultato di parità.